ciao a tutti faccio una premessa vi chiediamo scusa scusate 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 da stamattina quando è uscito il comunicato giustamente siamo stati criticati e avete ragione avete ragione perché e ci avete pure ragione perché noi abbiamo litigato è vero avevamo litigato però venti giorni fa ci siamo rivisti gli abbiamo rimesso tutto in piedi purtroppo quella che si può fare in più giorni in venti giorni non ce l'abbiamo fatta perché noi non volevamo fare uno spettacolo così noi mi fanno bello spettacolo perché veniamo a napoli perché siamo andati in africa e perché poi voi l'avete fatto diventare ancora più importante avete comprato quasi tutti i biglietti lo potevamo annullare non era giusto annullarlo e allora abbiamo solo cercato di rinviarlo di due mesi adesso qualsiasi cosa succede anche se litighiamo un'altra volta volta noi 20 21 e 22 settembre saremo all'arena flegrea di napoli vi aspettiamo all'arena flegrea vi amiamo scusa scusate scusate allora volevamo dire una cosa a tutti i nostri fans scusate 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 abbiamo rinviato il nostro concerto al 20 21 e 22 settembre settembre c'è la fettisa purtroppo è capitato che abbiamo litigato è la verità però adesso abbiamo fatto pace 20 giorni fa è tutto a posto e quindi faremo insieme un grande spettacolo 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 non ripetere cose di chi però ma non fai perdere il mio figlio mentre sto parlando scusate 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 se vuoi dire qualcosa che ci sono i nostri più grandi successi io manderò non ci inserano maglietto senza giacca e cravatte popolo e patatini io canterò non dirgli mai tu che ne sai mon amour come suoi nel corassone quanti amuri al mare si è canzone sui sui suoi assai non ci capito ma chi è che sui sui suoi assai non ci capito ma quando c'entra come facciano mettere i carichi ma quando si si canzone ma che avessi i canzoni come ti vuole mangiare che faccio scusate scusate allora non ci siamo ripristinati adesso faremo un grande spettacolo dove ci saranno tanti ospiti verrà anche guepeghegno e canteremo insieme con la mia tuta di felpa ma io non ho capito ma io non ho capito ma io non ho capito canteremo anche scusate le canzoni classiche napoletane io canterò tu sei una cosa grande per me ma hai deciso di cantare questa canzone in questi giorni abbiamo pensato che io non ci sei poi gli autori abbiamo deciso che io canto questa canzone ma io la voglio cantare questa ma che hai fatto tu che stai faccio io a pianoforte e tu a pianoforte io la canto ma no signor non hai cantato tu fino a cosa grande la devo cantare io non ho cantato tu che si curta e non ho cantato ah si io voglio cantare la tua canzone ma si io voglio cantare la tua canzone ma tu vuoi fare l'americano tu hai fatto cose ti faccio un po' di fatto così e ti dici tanzi a lui eh ti dici tanzi a lui a chi si caga io l'ho detto cosa mia io non ho fatto cosa mia non mi capito niente allora io sto dando una grande possibilità ma io sono cassarene ma qual è la possibilità ma tu l'unica cosa che ha incarrato in davidato era il caschetto poi è pagato il barbileo e non c'è più niente ti piace questo caschetto che è una roba di notte l'unica cosa che ti ha dato anche la non ballo ilddio lale inferiore da lavorare ma non bruciate ma non ba sono Noi noi, non ho bisogno di più. Noi noi, non ho bisogno di più.